I rinnovi e i corsi relativi alle patenti CQC, per intenderci quelle utilizzate dagli operatori del settore autotrasporti, non devono gravare sulle tasche dei dipendenti, come avvenuto finora. Lo ha stabilito una sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti del 23 aprile scorso che condanna le aziende di autotrasporto a risarcire gli autisti che hanno sostenuto i costi del rinnovo quinquennale. Sulla questione la FIT Cisla Bruzzo e Morisi aveva tentato di proporre alle aziende un protocollo conveniente, non sfruttato però, come ricorda il segretario interregionale Andrea Mascitti, che inquadra solo la situazione della tua, ma la platea è molto più ampia dove ci sono circa mille lavoratori con patente CQC. Guardi, se la tua di allora avesse sottoscritto l'accordo con 200 mila euro avrebbe dato un segnale distensivo ai lavoratori e avrebbe evitato oggi di tirar fuori qualcosa che cuba oltre un milione e sei. Questa sentenza quindi riafferma non solo il valore della contrattazione, ma riconosce anche le competenze professionali perché molte aziende le ricercano, alcune altre le sminuiscono, tanto che ad oggi non si trovano più autisti ma i ragazzi non investono più in questo settore. E a partire da oggi tutti coloro che hanno rinnovato il CQC con proprie spese attraverso la fitta a Bruzzo Molise potranno recuperare fino a 800 euro e di questo dobbiamo ringraziare l'Avvocato Borrone e il Tribunale di Chieti. Da parte di tua naturalmente ci sarà un ricorso come sottolinea l'Avvocato Borrone. Sì, è probabile che ci sia un appello ovviamente nella possibilità e nella facoltà dell'azienda così come di ogni singolo cittadino a dire tutte le magistrature competenti, quindi corte dell'appello e Cassazione per cercare la riforma perché ovviamente ci possiamo ben immaginare che è una decisione storica che potrebbe travolgere completamente i rapporti azienda-lavoratore sotto questo profilo. Grazie a tutti.